in this place I don't afraid in questo posto non ha paura li stanno caricando dear friends today your visit of the empire of Agatha cari amici oggi andiamo in visita all'impero di Agatha mondo sotterraneo the world underworld ponte in of the red rock ponte san gemolo dei sassi rossi the bridge of the Caronte welcome to Agatha ponte di Caronte benvenuti ad Agatha the white rock in the fountain are transformed in red rock le rocce bianche nella fonte sono trasformate in rocce rosse l'incredible tree albero incredibile il fiume dei sassi rossi and the river of the red rocks the fiume dei sassi rossi the refuge in the my precedente video the mountains the mountains the mountains the mountains le montagne Balganna Dear friends, today are visiting the world of Zagarta Dear friends, today visit the world of Zagarta The world of Zagarta, il mondo di Zagarta The world of Zagarta The world of Zagarta The cave The world of Zagarta The cave is carved with the machine of the diamond wheels This cave The 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 cave Incremento di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, and other events e altri eventi. The extraterrestrial creatures about the world, i creature extraterrestri verranno sulla terra, giungeranno sulla terra. This is the world of the Agartha. Questo è il mondo di Agartha. Visiting of the Agartha. Maschere di quando faccio voi mago si stanno caricando per il contatto con Agartha. Il mondo sotterraneo, ma qualcosa di oltre, con questa tipologia di creature. Sì, meraviglioso. Facciamo una foto. This is the place, wonderful, wonderful place. Un posto fantastico. The cave of the Galleries. Antro delle Gallerie. Valgana, about my home. About my home. Sopra casa mia, Valgana. Sopra casa mia in Valgana, mica lontano. Sopra casa mia. Eh. Today from the Empire of the Agartha. Oggi dall'Impero di Agartha. 20 marzo 2016, Gennaro Gelmini. Grazie. Questa è stata scavata da macchine con ruote diamantate. Chi l'ha scavato e perché? L'impero di Agartha, l'impero di Agartha. La grotta delle gallerie, da la grotta delle gallerie, Gennaro Gelmini, 20 marzo 2016. È scavato con macchine con ruote diamantate. Sembra scavato con ruote diamantate. In legna dietro. Sembra di ruote diamantate. Grazie. 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 Buona giornata da Gennaro Gelmini.